La partita di Eric Holkent non è stata certo eccezionale, è stata una partita un po' scarsina e comunque diciamo che la difesa soprattutto ha peccato perché Mancini non è stato splendido e neanche quelli del suo reparto. Diciamo che all'inizio potevamo subito segnare con una traversa di Kolarov che in effetti non ha segnato e comunque abbiamo avuto il coraggio di reagire al primo gol di David, per cui ripetiamoci fortunati. Non abbiamo poi fatto così gran schifo come dicono tutti, secondo me abbiamo fatto una partita come più o meno tutte le altre, ci dimentichiamo i nomi delle grandi squadre che sono state eliminate? No, e allora? E anche quelle che non sono state eliminate, non hanno giocato brillantemente poi. Quindi accontentiamoci, l'importante è aver passato il turno, l'importante è essere passati agli ottavi di finale e poi tutto si vedrà. Intanto noi tifiamo sempre per la nostra Roma, anche perché sappiamo quale sarà il nostro successivo avversario, per cui sempre forza Roma, sempre tanta aggressività, sempre tanta voglia di giocare e soprattutto dimostrare quello che siamo. Piano piano forse ci riusciremo, ma sempre con il nostro tifo. Se li mogliamo adesso siamo noi che non siamo tifosi, ma siamo semplicemente dei critici anomali. Buonasera a tutti, ciao!